Ciao a tutti, in questo video vi mostrerò due funzioni nascoste del Mac. Se fate una riflessione, quando alzate e abbassate il volume, sentite questo rumore. Allora, se intorno a voi sta una persona che dorme o semplicemente non vuole essere disturbata, voi potete alzare e abbassare il volume senza sentire questo rumore, a volte fastidioso. Allora, semplicissimo, dovete tenere premuto il tasto Shift, che è quello per mettere il maiuscolo in Word o in altri programmi, e contemporaneamente alzare e abbassare il volume. Vedete? Io sto alzando e abbassando il volume, ma non si sente nessun rumore. Invece, se non tengo premuto il tasto, c'è ancora il rumore. E questa è una funzione nascosta, adesso arriviamo all'altra. Allora, apriamo un programma qualsiasi. Ok. Adesso dobbiamo tenere premuto sempre Shift e chiudere un programma e vedete che succede. Così e per chiuderlo facciamo lo stesso procedimento. Teniamo premuto Shift e apriamo il programma. e ritorno nello stesso modo. Tornate a vedere i nostri tutorial per scoprire altri trucchi sul Mac. Arrivederci.